ciao a tutti buongiorno eccomi qui allora io ho appena finito di vestirmi in modo molto comodo con la felpa e la tuta nera mi sono fatta tè classico ho preparato questa bacinella calda con bicarbonato e bagno schiuma buon pranzo eccomi ragazzi sono pronta per uscire allora se faccio del mio outfit questa qua questa sciarpa la solida poi questo maniglione che di pull and beer questo giacchetto di subdued poi sotto l'està smith che nelle vacanze le ho pulite infatti guardate sono pulitissime sotto i calzini lunghi con la calza maglia e questi jeans di bershka fa freddissimo veramente tanto e noi stiamo uscendo poi vi dirò dove è anche una bella giornata è guardate però fa veramente freddo il bello che a sud e poi delle zone vicino a roma sta nevicando da noi no sto tremando dal freddo tutti i brividi nel corpo e ricordatevi sempre che ho anche il ciclo al secondo giorno sto a pezzi infatti adesso andiamo a un bar che perché mi devo cambiare urgentemente comunque la calza maglia non mi ha salvato per niente perché tutti avevano il cappello a parte la sottoscritta ottimo proprio un'ottima idea avuto eccoci qua è già tutto finito finito nooo ragazzi guardate bello 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 era una specie di bellissime pezzo avete visto appunto gli animali vi ho fatto vedere tutto stava tutto in questo capannone comunque veramente molto carino eccoci siamo ritornati a casa è così al calduccio chiaro si è sentita ma scrivete qua sotto se volete un altro video con mia sorella ma si ragazzi ciao ragazzi buongiorno io mi sto finendo di preparare stamattina mi sono svegliata molto presto si vede dalla mia faccia matti saluta ciao ragazzi buongiorno a tutti eccoci qua io ho preso il succo cappuccino ciambella no eccola la ciambella e il cornetto buona colazione matti abbiamo finito tutto quanto è stato eccezionale ora aspettiamo il negozio che apre che è quello lì si chiama pfebo e vende tutte cose di marca usate però comunque messe bene da ralph loren tantissime cose vintage a me piace molto quindi se mi piace qualcosa la prendo e vi farò sapere e non abbiamo trovato nulla che bello io pensavo di trovare camicie o maglioni ma zero stupendo oggi tra l'altro è una bellissima giornata siamo a circo massimo io non c'ero mai venuta oggi tra l'altro è una bellissima giornata però tiramento come ieri ma mai come ieri perché ieri faceva freddissimo e poi con la colazione di stamattina mi sono caricata al massimo ora ci facciamo un giretto passeggiamo fino a leggo e alla fine ecco e ora sono qui a editare questo video blog noi ci vediamo al prossimo video blog un bacione ragazzi alla prossima ciao 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 ciao